Manuel Marras ha origini sarde ma è nato a Genova il 9 luglio 1993. È un esterno di piccola taglia di piede mancino che può essere utilizzato sia in attacco che in linea coi centrocampisti. La sua trafila nelle giovanini è iniziata nel Savona. È proseguita nel Genova e si è conclusa nello Spezia dove ha debuttato anche in prima squadra collezionando due presenze nel campionato di prima divisione Lega Pro 2011-2012. Nella stagione successiva ha totalizzato 21 presenze e 3 gol nel Rimini in seconda divisione Lega Pro mentre nella scorsa stagione 2013-2014 ha disputato 22 partite col Savona nel campionato di prima divisione Lega Pro. Manuel Marras è arrivato in prestito dallo Spezia.